Hey man! Io sono il Gunner e benvenuti a un nuovo episodio di FIFA 14. Ci mancano o un pareggio e una vittoria, o due vittorie ancora meglio, per la vittoria della sesta divisione. Quindi dobbiamo darci da fare e cercare di vincere. Ok ragazzi, l'avversario è costui, ha un 4-4-2, e davanti è veloce, cioè ha un certo Aubameyang. Attenzione, occhio, occhio, occhio. Partiti ragazzi, siamo contro un crucco, uno che con la Bundes ne sa qualcosa. Portiere, quando vuoi magari uscire... Oh, buona, dai dai, oh, calma eh. Cosa che solitamente non è, ecco, questo è uno che fa i numeri, vorrei spaccargli già le gambe e il controller anche. Così si fa. Andiamo e tu, questo è un numero che potrebbe essere... Eh, va a cagare e tu. Ma perché fai così? Perché sei così ignorante? Attenzione! Attenzione! Attenzione, no! Palo! Palo! Cazzo, ma ho fatto una figata che non mi verrà mai più, credo. Dai! 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 Buona, buona circolazione, ottima circolazione, fantastico. Dai! Sì, sì, lo vedo, dai! Navas! I Jesus! Navas! All'incrocio! Gliela metti lì! Gliela metti lì dove il portiere non può arrivare nonostante i blocchi! Che inserimento, guarda, 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 come gli sfugge! Ptis! E andiamo ragazzi, 1-0! Eh no, 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 così no. Ma no, ma sei deficiente! Meno male, meno male che è scarso. A meno davanti con quel tiro lì è scarso, eh. Cioè, sì, ma ha fatto una roba la mia difesa inguardabile. Dai, 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 sciurle che non ti prende nessuno. Dai, dai, dai! No, peccato, dai, però! Attenzione! Non ci... cosa par... Non è possibile! Non è... no, 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 è inconcepibile una parata del genere. È impossibile. È impossibile una parata del genere. Dai! Dai, però, dobbiamo concludere, dobbiamo chiudere questa partita. Dai! La bomba! Ma cosa... che portiere è? Io lo voglio quel portiere adesso, io lo voglio! Cioè, non... è impossibile che parla... fa... Parla... delle bombe del genere. Io voglio sto portiere. Dopo prendo nota del portiere. Lo voglio! Cioè, guarda! Continua a parla... Neuer! Cioè, come fa ad essere così forte, Neuer? Boh! Cioè, l'ho beccato altre volte... Magari anche a caso, ma non era così... Irresistibile. Prendi questo! Vabbè, però se tiri col sinistro, sei un genio! Dai, no, questa la parava tranquillamente, ma se tu tiri col sinistro, che sei destro, ovviamente... Dai, compagni! Figo, ma... Madonna, quante occasioni buttate al vento! No, ho f... Anzi, sì, poi... No, ok, fischio che è meglio. Beh, ragazzi, 0-1 avrei potuto dilagare a volontà. Ma il portiere gli ha fatto delle cose che non ho mai visto fare in vita mia. Dai, secondo tempo! Chiudiamola, per favore, chiudiamola, perché temo! Un po' di forza! Che cosa è successo? Non lo so... BANTO! No, no! Non c'è il suo... Ma che cazzo di azione? Ma che... Che cosa è successo? Che cosa è successo? Che cosa è successo? 2-0, l'importante è questo. L'importante è questo, sempre. Via sta palla! Via sta palla! È combattutissima sta partita, signore. È combattutissima. Potrebbe finire in qualsiasi modo. Ma forse finisce 3-0! Ma forse finisce 3-0! E' d'oh! A 100 all'ora! E finisce prima! E finisce prima, ragazzi! E finisce prima! E andiamo! E andiamo! 0-3, signori! 0-3! Samuretto chiude tutto! Chiude lo stadio! Chiude la porta a chiave! E la connessione è andata! E' un po' troppo! Ai 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 ai! In mezzo ai difensori centrali sono molto forti! Occhio, occhio, occhio! Sarà dura! Sarà molto dura! Però almeno il pareggio ci sta! Dai! Partiti! È chiaro che voglio vincere, però anche il pareggio ci sta! Ma io voglio vincere, però ci sta anche il pareggio! Però voglio vincere! Però ci sta anche il pareggio! Basta! Sto rischiando un po' troppo, eh! Sto rischiando un po' troppo! Attenzione! Non facciamo... Il fenomeno! Ai 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 ai! Fuori gioco, mi sa! No? Non è fuori gioco? No! Che pi... Che imbecille! Bomba! E di gol! Sergio Aguero! All'incrocio dei pali! Vi la inserisci intetro la schiena al portiere! Una bomba! Non me l'ha mai fatta! Bella! Aguero! Per il 2 a 0 Aguero! Per il 2 a 0 Aguero! Per il 2 a 0 Aguero! E andiamo! E andiamo! Bene così, ragazzi! Ottimo! Ottimo! Guarda, Tech! Yeah! 2 a 0, ragazzi! 2 a 0! 2 a 0! 2 a 0! Da quando ce l'ho! Bella! Eh, però, la stessa cosa l'ha fatta il mio avversario prima! E dovevamo unire anche lui, eh! Non è molto giusto questo! Ma non gli ho fatto niente! Dai, guarda! E tu! E tu! Uh! Angolo! Dai! Confidiamo nel mezzo! Peccato! Dietro, dietro subito immediatamente! Oh! No, fine primo tempo, peccato perché ero lì ancora a tirare, 2-0 è veramente dura ragazzi, è veramente dura, l'avversario corre ovunque, continuamente, è dura, ma si può fare, dai! Partiti col secondo tempo, attenzione, non facciamo vaccate, anzi, chiudiamola! Dai, siiii, 3-0 immediatamente, 3-0 immediatamente, 3-0 immediatamente, 3-0 immediatamente, respinta malissimo, e poi Eto'o, Eto'o con un tocco normalissimo, per il 2, 3-0, per il 3-0. Minchia, che figata che era stazione, peccato, mamma mia che bella. No, pure questo, mo' se ne va, no dai, non credo. E va bene, dai, l'importante è essere passati, e abbiamo vinto tutto, anche la sesta. Vediamo, oh, titolo vinto, titolo vinto, titolo vinto! Bene ragazzi, il video per oggi finisce qui, se vi è piaciuto, like potente, iscrivetevi al canale, solo perché siamo in quinta divisione, commentate, condividete, iscrivetevi alla pagina Facebook, al canale di Scorta, tutti i link sono in descrizione, e noi ci vediamo presto, al prossimo video! We believe!